Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube Emil Fitness, personal trainer online da 7 anni www.emilenjoyfitness.it Oggi vediamo 3 segnali che ci dà il fisico quando stiamo bevendo molto poco Chiaramente bere è importante su questo canale, l'ho ricordato davvero tante volte sia per chi vuole mettere massa muscolare, sia per chi vuole dimagrire sia in generale per chiunque voglia restare in salute La dose media consigliata per un adulto in salute da tutte le organizzazioni mondiali della sanità eccetera eccetera va dai 2 ai 3 litri di acqua al giorno Chiaramente se siete molto minuti come fisico e pesate 40 kg anche solo 2 litri vanno bene se siete 2 metri per 140 kg magari ve ne servono anche 4 o 5 di litri 3 segnali della disidratazione sono abbastanza facili da percepire e li possiamo spesso percepire anche noi durante la giornata perché regolarmente le persone non bevono Questo succede perché il nostro corpo in realtà quando ci manda il segnale della sete è perché siamo già disidratati quindi dovremmo prendere un po' l'abitudine di bere prima di sentirci disidratati cioè quando non abbiamo realmente sete ma deve essere un'abitudine diciamo regolare che abbiamo durante la giornata Il primo segnale sono le labbra secche quindi quando iniziamo ad avere una secchezza sulle labbra in bocca e ci sentiamo un po' quella roba pastosa che succede quando beviamo poco questo è il primo segnale della disidratazione Il secondo segnale che possiamo vedere invece è quando andiamo a fare le urine perché il colore delle urine ci dice in parte il nostro stato di idratazione più sono trasparenti colore acqua più siamo idratati più sono gialle giallo scuro quasi arancio e più siamo disidratati quindi vi accorgerete che se bevete il giusto durante la giornata molto spesso le vostre urine sono di colore trasparente o comunque giallo molto molto chiaro se invece andate a fare la pipì e sono giallo o giallo scuro è perché siete leggermente disidratati con una piccola nota ci sono le vitamine del gruppo B in particolare la B6 che rendono le urine gialle fosforescente quindi nel caso in cui pregnate un multivitaminico che è sovradosato o comunque tanta vitamina B e il vostro corpo in quel momento non riesce a utilizzarla tutta la espellerete con le urine e quindi farete la pipì giallo colorato fosforescente ma non perché siate disidratati infine il terzo segnale è quello un po' più diciamo se vogliamo dire grave questa è una parola che non mi piace dire nei video perché non è che state andando a morire però insomma il vostro corpo inizia ad avere un effetto che lo notate in tutta la giornata ovvero poca concentrazione poca energia e stato di letargia cosa vuol dire che durante la giornata se iniziate a sentirvi deboli stanchi e soprattutto se andate a allenarvi notate un calo della forza piuttosto importante è perché siete disidratati ho letto di recente che chi è disidratato può avere un calo della forza anche fino al 20% chiaramente si parla di disidratazione reale non appunto magari il non aver bevuto i due bicchieri d'acqua che dovevamo bere però insomma io conosco persone che campano con mezzo litro di acqua al giorno e quindi queste persone sperimenteranno spesso durante le loro giornate questi sintomi ovvero stanchezza incapacità di concentrarsi difficoltà a fare le cose debolezza anche solo nei movimenti più semplici non so portare la spesa per due piani di scale eccetera eccetera quindi ecco questo è un altro sintomo della disidratazione un po' più grave e lì davvero ragazzi dovete iniziare a ricordarvi di bere perché è importante no? quindi ecco questi sono poi i tre segnali che dovete tenere d'occhio mi raccomando sempre la bottiglia o il bicchiere d'acqua a portata di mano durante la giornata e quando vi ricordate bevete ci sono anche le app che ve lo ricordano quelle che suonano ogni ora piuttosto che delle sveglie apposta eccetera eccetera io semplicemente quando mi ricordo bevo e più o meno i miei due, due litri e mezzo di acqua al giorno riesco a berli non sempre chiaramente perché ci sono dei giorni in cui non ci arrivo perché mi dimentico perché sono impegnato eccetera però cercate continuamente di bere e soprattutto anche prima e durante l'allenamento è importante non fate gli allenamenti disidratati senza bere grazie per aver visto questo video se ti è piaciuto iscriviti al canale per vederne tanti altri e ci vediamo presto nei prossimi ciao 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 ciao